...e' un caso interessante, a mio avviso, per quanto isolato nel nostro settore, perché mi permette di introdurvi un aspetto che non è banale, nel senso che noi siamo abituati a pensare che un bene culturale debba necessariamente avere una valorizzazione culturale, anche se poi quello che vediamo è abbastanza variegato, diciamo così, nella prassi. Questo denota un certo ritardo anche dell'impianto normativo da questo punto di vista, nel senso che noi siamo abituati a pensare che la valorizzazione di fatto si traduca appunto nei servizi dell'articolo 117, la biglietteria, il bookshop, la ristorazione, tutto quello che siamo abituati un po' a vedere nella maggior parte dei casi in cui noi identifichiamo il luogo con un luogo di cultura, come li chiama il codice dei beni culturali, quindi musei, le aree archeologiche e così via. In verità, si è fatta a strada di recente un'ipotesi alternativa, che ovviamente non investe il patrimonio, se vogliamo, maggiore, cioè appunto quello dei musei e delle aree archeologiche, però comunque opera anche su beni vincolati. Voi sapete che, diciamo così, un bene che supera l'età dei 70 anni, insomma, viene sottoposto in automatico ad un regime di vincolo, in attesa della cosiddetta verifica della parte della soprintendenza che poi confermi quel vincolo e quindi le motivazioni ovviamente sottostanti. Ora, vi dicevo, se volessimo semplificare molto le tre fisionomie possibili della valorizzazione, potremmo dire che da una parte abbiamo quella che appunto è la valorizzazione consolidata, diciamo così, culturale in senso stretto, e cioè quella appunto della didattica, quella delle visite guidate, delle audioguide, dell'editoria, nei bookshop, è tutto quello, insomma, che poi vedremo nel dettaglio perché vi ho riportato e lo vedremo poi, lo scorriamo insieme, l'articolato del 117 del codice dei beni culturali, in verità poi la sua declinazione pratica nelle concessioni. E questo è un primo filone su cui poi entriamo nel dettaglio, i cosiddetti servizi al pubblico. Poi esiste un altro ambito che non affrontiamo nel dettaglio e che potrebbe sintetizzarsi nella valorizzazione di tipo sociale o socio-culturale, cioè l'idea che un patrimonio sia soprattutto una risposta a un bisogno di comunità, ancor prima di essere, come dire, un elemento di fruizione estetica o pedagogica da quel punto di vista. E quindi questo è un ambito che si è fatto strada solo di recente e che, per avere un esempio, potreste andare a vedere il bando della Fondazione Conil Sud, che non so se qualcuno di voi ha sbirciato, che scadeva per la prima fase, adesso ve lo racconto brevemente, visto che può essere di interesse per voi, che scadeva il 9 di settembre e che si chiama Bando Storico Artistico, Storico Trattino Artistico. Conoscete la Fondazione Conil Sud? Come forse qualcuno di voi sa, Conil Sud adesso si chiama, se si chiamava Peril Sud prima. Allora, qualcuno di voi sa cosa sono le fondazioni bancarie? Non mi hai sentito parlare? Beh, sostanzialmente nel 92 le banche erano o pubbliche in Italia, tipicamente, o diciamo comunque soggette ad un fortissimo controllo da parte dell'autorità di vigilanza, del Ministero dell'Economia e bla bla. In Italia però, a differenza di altri paesi, in verità anche in altri paesi esistono cose simili, però comunque in Italia c'è stata tradizionalmente una forte connessione tra le banche e il proprio territorio, perché come sapete le banche, diciamo a partire da Montepaschi, nascono fondamentalmente come monti di pietà, diciamo monti dei pegni soprattutto, in cui uno lasciava una cosa e pigliava i soldini adesso per semplificarla così. Ora che succede? Quindi che l'evoluzione delle banche ha portato soprattutto in Italia ad avere una forte connessione territoriale, per cui le banche facevano da banca, ma facevano anche, diciamo così, da enti di sostegno in qualche modo al territorio, non fosse altro perché nella governance, cioè in chi poi svolgeva le funzioni di indirizzo e controllo erano presenti i rappresentanti delle comunità locali di cui la banca era espressione e quindi c'era un forte radicamento territoriale. Questa cosa però un po' confliggeva con l'evoluzione delle banche a livello internazionale e siccome le banche italiane dovevano sempre più competere con le altre, si era creato un problema evidente, da una parte troppo localismo e dall'altra incapacità di andare sui mercati esteri o comunque di ragionare secondo le regole della banca moderna. Da lì nasce l'idea che si conclude di fatto nella legge Amato Carli del 92, se non ricordo male, la quale sancisce la separazione delle banche da un soggetto diverso che appunto è la fondazione bancaria, che è la proprietaria della banca, almeno originariamente. Poi alcune fondazioni hanno venduto la propria partecipazione nelle banche, altri l'hanno mantenuta in misura più o meno elevata. Quindi sostanzialmente con la legge Amato Carli quello che avviene è proprio la separazione di una, come se si scindesse in due, da una parte quella sezione della ex banca che serve ad avere rapporti col territorio e quindi in maniera strutturata a quel punto a sostenere il territorio di riferimento e dall'altra la banca uguale a qualunque banca di tutto il mondo, diciamo per semplificare in maniera un po' ronza. Questa separazione, che è un tema peraltro a mio avviso pure molto affascinante insomma per chi di voi lo volesse approfondire, ha portato quindi ad avere una novantina di fondazioni bancarie che sulla base degli utili che produce la gestione del loro patrimonio, e sono patrimoni spesso ingenti. Parliamo, se penso alle più grosse che sono Cariplo e San Paolo, di oltre 6 miliardi di euro di patrimonio, quindi sono cifre considerevoli. Immaginate quindi la gestione di un patrimonio produce degli utili, quegli utili servono a sostenere le attività sul territorio. Con un problema però, che quando si è realizzata la legge Amato Carli erano già state, e poi si sono peraltro ancora susseguite, si erano già realizzate una serie di acquisizioni dalle banche, con un risultato che vi sintetizza in maniera brutale. Le banche del Nord avevano di fatto comprato le banche del Sud, che erano tipicamente più piccole e spesso malgestite. Cosa è successo quindi? Che nonostante anche le banche del Sud fossero nate con lo stesso principio di quelle del Nord e quindi avrebbero avuto diritto ad avere una fondazione del territorio? Questo non è avvenuto, almeno non è avvenuto se lo confrontiamo con quello che c'è al Nord, per cui la maggior parte, credo la quasi, siamo, uno scherzo, credo se siamo oltre l'80% delle erogazioni che vengono alle fondazioni bancarie si concentrano al centro Nord. Ok? E questo è un problema, evidentemente. Per rimediare in qualche modo dal problema si decise anni orsono, credo ormai 15 anni fa, di costituire una sorta di fondazione delle fondazioni. Perché mentre, come vi dicevo, le fondazioni bancarie hanno il vincolo di destinare le proprie erogazioni ad un territorio limitato che è quello di propria pertinenza. Cariplo lo fa a favore delle province lombarde. Lo sta per quello. Ok? Più, vabbè, Novaria Verbania Cusossiola per una questione storica della banca. Intesa, diciamo, San Paolo lo fa sul Piemonte. Ok? E così via, insomma. Ce ne sono tante che operano, peraltro, con modelli organizzativi tutti diversi, perché ci sono vari modi di erogare sostegno. Ok? Adesso non mi annoio su queste cose. La fondazione con il soldo, per farvela breve, quindi non è una fondazione come le altre, che è collegata alla storia di una banca. No, nasce ex novo per compensare il fatto che il Sud non aveva una fondazione bancaria forte. Ok? Per questa ragione la fondazione con il Sud fa una serie di interventi che trovate su internet, insomma, alcuni a bando, altre operazioni bandiere, insomma, poi ve lo vedete, quindi è molto semplice il sito della fondazione. Tutto questo per dirvi che quest'anno la fondazione con il Sud ha deciso di costruire un bando nel settore culturale con una dotazione minima. di un paio di milioni d'euro, però comunque interessante. Perché, prego, buongiorno, perché sostanzialmente questo bando, che si chiama bando storico-artistico, è trovato facilmente su internet, è stato articolato in due fasi. Allora, tipicamente questo bando veniva fatto così, veniva detto, immaginate, siamo andando in una fondazione bancaria, quindi privata. E la struttura tipica era, care associazioni del volontariato, cari cittadini, diteci quale bene culturale scegliete e su quello fate un progetto, diciamo così, di recupero per la comunità. Ora, la finalità del bando è rimasta la stessa, però abbiamo, perché ho partecipato direttamente alla nuova costruzione del nuovo bando, deciso di impostarlo in maniera un po' diversa, sulla base anche dell'esperienza passata, che aveva evidenziato una serie di criticità. La prima e più ovvia, credo che conveniate con me, è che se un'associazione, per quanto rappresentativa di un territorio, dice io mi candido a gestire quel bene, il primo problema è quello che il proprietario del bene, ma è d'accordo? Oppure il proprietario del bene sta facendo delle azioni che sono completamente in contrasto con quello che stanno... Sembra un'obvietà, ma evidentemente non era così ovvio. Quindi abbiamo deciso di separare il bando, di articolarlo in due fasi. La prima si è conclusa il 9 di settembre e la prima fase serve esattamente a evitare il problema. Cioè abbiamo detto, cari proprietari dei beni, pubblici o privati, abbiamo escluso, perché la fondazione lo doveva escludere, i proprietari intesi come singoli individui di un palazzo storico, ma abbiamo incluso tutti gli enti, anche, diciamo, for profit, che sono proprietari di un bene di interesse storico-artistico e che quindi sono decisi a destinarlo in tutto e in parte alle comunità di riferimento. Quindi abbiamo detto, cari proprietari, candidate i vostri beni e, candidandoli, dovete accettare il fatto che la fondazione con il Sud, in una fase successiva, dopo aver selezionato i beni più importanti o più adeguati allo scopo, possa individuare con un successivo bando, che uscirà a giornale, ed è questo forse di interesse per voi, possa individuare dei soggetti organizzati, del volontariato, del non-profit locale, che abbiano un progetto di valorizzazione sociale, ed è questo l'esempio che vi portavo per la seconda categoria di valorizzazione, la prima è quella culturale, tu cur, questa è quella socio-culturale, che ha un'idea, diciamo, di valorizzazione socio-culturale e quindi a favore della comunità locale, proprio di quei beni, di quel bene. A che punto siamo, giusto per darvi un aggiornamento a caldo, stiamo facendo i sopralluoghi nei beni, che sono stati numerosi quelli candidati, contiamo di riuscire a finanziare 10, 15 iniziative, che comprendono per lo più le attività dell'associazione o del gruppo di persone che si candideranno nella seconda fase, perché non è un bando che ha la capacità di finanziare i restauri, però ci sono dei piccoli lavori verosimilmente da fare. Sono arrivate tantissime candidature di beni, alcune un po' bizzarre, ma insomma sono arrivate tante candidature. Non posso anticiparvi ancora nulla, però comunque insomma in Puglia esistono dei beni che saranno verosimilmente selezionati, probabilmente anche in questa zona, e quindi credo sia di interesse per voi monitorarla, perché magari o voi o qualcuno che conoscete potrebbe essere interessato a candidarsi in questa seconda fase. E questo è uno dei pochi esempi, pochi, di valorizzazione di tipo socioculturale. Non perché non ce ne siano diciamo esperienze, ce ne sono ormai praticamente in tutte le parti d'Italia, anche quella che vi segnalavo ieri a Favara fondamentalmente insiste sullo stesso concetto. Ce ne sono a Terni, ce ne sono un po' da tutte le parti, a Roma, in alcuni quartieri disagiati, insomma. Il tema non è di fatto nuovo. Il punto è che, diciamo così, in termini tecnici, se dovessimo dire quanto siamo tutelati nella scelta di un percorso di valorizzazione socioculturale dal punto di vista della normativa di settore, vi direi siamo molto poco tutelati. E nel senso che non c'è ancora un quadro normativo che, diciamo così, chiarisca i contorni di questo tipo di valorizzazione. Non è un caso, non è un caso, che non lo troverete mai in un bene dello Stato. Cioè, la normativa statale, che è la più rigida da questo punto di vista, al di là di qualche principio generale, non si spinge fino ad includere tra le forme di valorizzazione possibili quella socioculturale. Perché ancora difetta di una serie di aspetti tecnici, amministrativi, che adesso con i quali non va a noio, ma che comunque, capite bene, possono minare le basi, proprio diciamo così, dell'impianto normativo. Un esempio per capire nel dettaglio di cosa sto parlando. Come ci siamo già detti ieri, una delle questioni fondamentali, diciamo che distingue l'Italia dal resto anche dei paesi nord europei, è che nelle varie operazioni di partenariato pubblico privato, la selezione dell'operatore privato deve avvenire attraverso una procedura di evidenza pubblica. Ora, il punto lo sollevava lui ieri, no? Il vostro collega, che si chiama? Claudio. Se io ho un bene in un paesino, ho qualche esempio in mente proprio dei beni candidati sul bando che sto seguendo, però ho un paesino piccolo, in cui verosimilmente ci avrò un'associazione che rappresenta magari la maggior parte, se non la totalità dei giovani di quel territorio. Buonsenso vorrebbe che non devo fare una procedura di gara, ma c'è un problema, che sotto il profilo concorrenziale e quindi della trasparenza delle regole del mercato, la residenzialità e la residenza di un soggetto giuridico come un'associazione, anche di volontariato, in verità non dovrebbe pesare. Cioè, per le regole pure della concorrenza, se io ho un castello e decido che quel castello deve essere occupato da attività culturali o socioculturali, dovrebbero essere messi nella stessa condizione un'associazione del paesino, della Calabria, con un'associazione della provincia di Ravenna. Queste sono le regole del mercato. Cioè, dovrebbero avere le stesse informazioni, disporre delle stesse possibilità per concorrere a fare una proposta migliore per l'amministrazione o comunque migliore per il proprietario pubblico, ovviamente nel caso di ente pubblico, nel caso di un privato il problema non sussiste perché non c'è necessità di fare questo tipo di procedura. Ora, capite che stride col buonsenso. Ora, possiamo verosimilmente aspettarci che un'associazione di Ravenna, pur consapevole che c'è un bando in provincia di Catanzaro, non si muoverà per un'attività che non ha una sostenibilità economica già per una di Catanzaro, figuriamoci per una di Ravenna. No. Però certo è un problema, nel senso che può capitare che non quella di Catanzaro ma quella di un'altra associazione di Cosenza dica no, sinceramente è stato fatto un affidamento diretto, noi ci saremmo andati. Ricorso e vince ricorso. Ok. Quindi, questo è l'istituto della fondazione di partecipazione. Troverete sicuramente tantissimi, non solo esempi, materiali, ma veramente tutta la storia che vi ho un po' raccontato. A sbirciare bene c'è pure l'episodio di come nasce l'idea di Enrico Bellezza dopo un pranzo con Filippo D'Averio nel 92, poi vabbè, gli aneddoti ve li risparmio. Allora, un'altra delle formule che ha avuto più successo è quella, come vi segnalavo ieri, del consorzio, con la particolarità su cui ieri ho insistito un po', non per annoiarvi su questioni, diciamo, interpretative, ma perché in effetti quella del consorzio viene ad oggi, a tutt'ora, considerata una forma di gestione diretta, con le anomalie che ieri vi segnalavo, insomma, rispetto a quello che è emerso durante il periodo di vigenza dello spending review. Anche in questo caso, non mi dilungo, il punto fondamentale del contratto di consorzio è quello chiaramente di individuare in sintesi chi fa che cosa, quindi le responsabilità di governance, di chi ha poteri di indirizzo, di controllo, di vigilanza, poteri invece di gestione diretta e questo ovviamente ha tutta la sua, come dire, possibile declinazione da intendersi e da esplorarsi in vari modi. Non mi dilungo perché non sia interessante l'istituto del consorzio, ma perché si usa meno, sempre meno si utilizzerà verosimilmente e comunque trovate anche su questo fronte, su internet, un po' di materiali e capirete che in sintesi è un soggetto, diciamo così, che può avere, come vi dicevo ieri, un'autonomia giuridica perfetta o meno, nel senso che può lasciare i consorziati responsabili separatamente di una serie di oneri o può incorporare tutte le responsabilità all'interno del soggetto giuridico consorzio. Quindi quando esplorerete, semmai lo farete, i consorzi cercate di osservare questo aspetto, non per passione, diciamo, di un elemento giuridico marginale, ma per capire poi chi fa che cosa, che poi probabilmente è l'interesse che uno ha quando guarda ai soggetti giuridici da quella prospettiva. Sul project financing, visto che l'abbiamo già esplorato abbondantemente ieri, mi limito solo ad aggiungere alcune piccole indicazioni. Allora, sostanzialmente, lo ho insistito ieri e lo richiamo oggi perché verosimilmente sarà sempre più utilizzato, per le ragioni che ieri ci siamo detti, è uno strumento oggettivamente molto allettante per un funzionario o dello Stato e soprattutto degli enti locali che non ha la, diciamo così, capacità o la volontà o il tempo di articolare un intera, appunto, un capitolato di concessione e quindi con un avviso molto semplice può ritrovarsi degli studi praticamente fatti. Aggiungo che non ci sono molti riferimenti metodologici, questo un po' ieri ce lo siamo già detto, se però volete trovare dei riferimenti dovete inevitabilmente fare riferimento appunto a questi due soggetti. Uno è l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che come vi segnalavo ieri ha cambiato nome, si chiama ANAC, e dall'altra l'unità tecnica finanziata di progetto, anche questa ve la citavo ieri, che è incardinata presso la Presidenza del Consiglio. Troverete, a cercare insomma un po', sbirciando un po' su internet, troverete tanto materiale sui temi del project financing, non lo trovate sui temi del project financing della cultura, però trovate tanto materiale che, insomma, con un po' di fantasia si può declinare abbastanza facilmente nel nostro settore. L'unità tecnica, diciamo, è interessante che la osserviate, adesso credo stiano rifacendo il sito perché da poco hanno cambiato struttura organizzativa. Sappiate anche, questo non lo sanno in molti, che l'UTFP svolge attività di affiancamento degli enti locali sui temi del partenariato pubblico privato. Quindi un piccolo comune che magari non si può pagare un consulente potrebbe comunque chiedere un supporto all'UTFP, che magari non fa, diciamo, chiaramente un lavoro come del personale dedicato che si mette a lavorare solo su quella roba là, però comunque delle indicazioni le dà e può aiutare a risolvere anche problemi concreti. Quindi questo è un punto non banale. Tra le cose interessanti, diciamo, per chi di voi, non lo so quanti, insomma, soffrono di insonnia, però comunque magari tra le cose interessanti che uno può approfondire ci sono tanti materiali che insistono proprio su aspetti che ieri abbiamo affrontato con tanta insistenza. Ad esempio i rischi. Ieri non ho voluto insistere oltre sulla questione dei tre rischi, ricorderete, molto determinanti anche sotto il profilo contabile e quindi rischio di costruzione, rischio di performance e rischio di domanda. Però mentre appare molto semplice, diciamo, nel modo in cui ve l'ho raccontato, capire di cosa stiamo parlando, riuscire a calcolarli, quei rischi, vi posso assicurare che non è una cosa molto facile, perché gli elementi di alia sono numerosissimi, i fattori incerti non ne parliamo e quindi chiaramente diventa molto complessa la questione quando poi si vogliano fare delle analisi fatte bene. Non è un caso che in altri paesi in cui la tradizione delle forme di PPP è molto più sviluppata, esiste con cadenza periodica un ente come il nostro VTFP che produce delle indagini sistematiche e quindi settoriali, per cui sul settore energetico il calcolo del rischio di performance aumenta la base dati, aumentano, migliorano, si raffinano le tecniche statistiche e quindi si comincia ad avere una letteratura di supporto alle decisioni, che ci aiuta a capire come considerare il rischio di performance in diverse circostanze, come calcolarlo e come gestirlo, ok? È chiaro che l'Italia da questo punto di vista è soltanto agli inizi e quindi è un'area che secondo me avrà grandi sviluppi, diciamo tutti quelli che conoscono e lavorano nel PPP, non nel settore culturale come me, ma in altri settori stanno facendo un bel po' di soldini. Perché è un'area oggettivamente in cui se si osserva l'evoluzione che hanno seguito i paesi, che da questo punto di vista sono più avanti di noi, si capisce che ancora per l'Italia c'è un grandissimo ambito di sviluppo potenziale, insomma. Poi vediamo perché, come avrete capito da queste chiacchiere, tutto dipende dalle regole e dagli incentivi che a livello nazionale vengono effettivamente posti, nel senso che così è un po' per tutto quello che si affronta in termini di finanza pubblica. Ora, qualunque sia la forma di cui stiamo parlando, dalle fondazioni ai consorsi, dalle società miste alle concessioni di valorizzazione, dai contratti di disponibilità al project financing, noi abbiamo sempre, sempre, sempre il solito problema, che è quello di misurare ex ante quello che accadrà dopo. E questo è il problema che incontrerete, incontriamo sempre, quotidianamente, e che, diciamo, a volte è più semplice di quanto si pensi da risolvere, a volte invece è molto più complicato di quanto si pensi. Anche qui la risposta è sempre, dipende. Allora, non esistono sistemi di misurazione perfetti e validi in tutte le circostanze. E quindi, ogni volta che ci interroghiamo, in qualunque delle, diciamo, circostanze in cui ci si trova, bisogna costruire sistemi di misurazione ad hoc. Diciamo, io ho avuto la fortuna di lavorare su varie fasi di sviluppo dei progetti. E quindi ho imparato che i sistemi di misurazione ovviamente dipendono, prima di tutto, dall'obiettivo conoscitivo che tu hai. E cioè, a che ti serve? E questo è il primo punto, perché se noi siamo i concedenti all'interno di un rapporto di concessione, che è il mestiere che tipicamente faccio io, no? Io lavoro per la pubblica amministrazione con la quale costruisco un bando, ad esempio. E quindi, dal punto di vista del soggetto concedente, gli obiettivi conoscitivi sono ovviamente, in parte almeno, disallineati rispetto alle cose che serve misurare per il concessionario. E quindi, chiaramente, proviamo oggi a fare una semplificazione, perché le diverse fattispecie possono essere, appunto, poi articolate in maniera sempre molto, molto diversa. Anche a seconda della fase in cui ci troviamo. Nel senso che un sistema di valutazione, misurazione e valutazione, che debba individuare, come vi dicevo ieri, il promotore in una procedura di project tra diversi concorrenti sarà di un certo tipo. Una cosa diversa è valutare, misurare e valutare quel concorrente che intanto è diventato concessionario dopo tre anni dall'avvio del servizio. Avrò bisogno di informazioni diverse e quindi anche di sistemi diversi. Quindi il punto importante da cui partire e che quindi non possiamo esaurire evidentemente oggi è che esistono varie tecniche di misurazione, varie tecniche di valutazione, esistono varie logiche anche di misurazione e valutazione e tutte dipendono da quello che vogliamo capire. Insisto su questa cosa perché molto spesso, vi è capitato, vi capiterà, il problema non è tanto di sofisticazione tecnica o tecnologica. Il punto è che manca spesso la domanda, mi sembrerà strano, ma molto spesso manca la domanda di misurazione, cioè misuro per quale obiettivo. Ora, se io vi dicessi, foste voi il comune proprietario di un bene come questo e doveste voi misurare la qualità del risultato prodotto da chi lo sta gestendo, sulla base di quali elementi la misurereste. Pare facile, ma non è tanto facile. Soprattutto perché molte delle variabili che vi entreranno in gioco non sono così facilmente misurabili, seppure siano, come dire, invece opportunamente considerabili, e non sono probabilmente misurabili in autonomia. Perché magari uno dei temi che vi troverete di fronte riguarda la soddisfazione del pubblico che entra, non lo so, magari, da un certo punto di vista. E quindi il vero problema o la vera complessità dei sistemi di misurazione, che però è fondamentale per capire come costruire un'operazione di partenariato pubblico privato, costruirla e saperla, come dire, gestire nella sua evoluzione, che è il punto forse più complicato, perché fino a farla partire sono buoni tutti, con un buon avvocato, diciamo, si riesce fondamentalmente a farla partire. Ma gestirla e farla crescere, che è uno dei problemi che l'Italia ha. Il problema dell'Italia è che non esiste un'imprenditoria culturale, anche per l'incapacità degli enti pubblici di saperla guidare, come invece avviene in altri settori. Guidare non vuol dire vincolare, vuol dire impostare correttamente un rapporto di sana, diciamo così, dialettica, tra parte pubblica e parte privata. Ed è un tema che passa, mi verrebbe da dire in maniera prevalente, dai sistemi di misurazione, controllo e valutazione. Come mi dicevo, un approccio, come dire, i due approcci che sono un po' i poli del come si può fare questo, sono l'Italia da una parte e il Regno Unito dall'altra. Sono proprio agli antipodi dei sistemi di misurazione e valutazione nei rapporti di pubblico e privato. Ho estremizzato ieri dicendo che l'Italia ha una grandissima capacità di selezione in entrata, perché c'è un grande tema di verifica dei requisiti, verifica delle carte, verifica di tutto quello che sono gli aspetti formali che devono qualificare i soggetti e i progetti che ovviamente questi candidano. Con una scarsa purtroppo attenzione proprio a quello che vi dicevo, ai risultati prodotti. Perché, e questo mi pare che ormai ce lo possiamo dire abbastanza chiaramente, dove c'è un elemento di certezza giuridica, tipo hai un fatturato del 20%, hai il codice ateco che testimoni in maniera univoca, incontrovertibile, che fai quell'attività. Poi magari non la fai, però intanto il codice ateco ce l'hai. Quindi l'aspetto formale su cui l'Italia fondamentalmente nasce e si sviluppa, costituisce ancora la base di misurazione in entrata di un partner privato nelle diverse formule di cui stiamo parlando. Dopodiché nessuno, cioè tutto tace. Se voi osservate le principali concessioni, ma non dico concessioni, del palazzo Altieri di Oriolo Romano, che per quanto bello sta in provincia di Viterbo in un posto che non vi verrà di passaggio a breve, probabilmente, ma dico anche le concessioni del Colosseo. I sistemi con cui si monitorano le concessioni non prevedono nessun tipo di controllo di qualità, di controllo dei risultati, di misurazione e controllo dei risultati. I problemi sono tutti esclusivamente formali. Proviamo a capire, diciamo così, cosa succede in Inghilterra. Anzi, per fare un esempio che spero vi rimanga impresso e vi faccia capire le distinzioni, vi porto l'esempio dei sussidi all'abbattimento delle barriere architettoniche per i musei. Allora, siamo in Italia. Se io devo dire a Tiziana, per quest'anno abbiamo individuato un budget di X milioni di euro che permette a vari soggetti, tra cui Tiziana, di candidare una proposta per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel suo museo. Verosimilmente, quello che io, soggetto programmatore che poi ho le risorse da erogare, chiederò a Tiziana, saranno poche cose o tante cose, ma tutte avranno la caratteristica di essere aspetti formali. Se tu hai un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, a me non me ne frega nulla di quanto sia innovativo, fantastico, a me interessa. Ce l'hai il definitivo? Ce l'hai l'esecutivo? L'hai portato ad approvare la soprintendenza? Hai avuto i permessi che servivano? Perfetto. Secondo, ad esempio, fronte su cui chiederò notizie a Tiziana. I soldi che ti ho dato l'anno scorso per abbattere le barriere architettoniche, me li hai rendi contati in maniera formalmente corretta? Sì, ti ho portato le ricevute, poi cosa c'è in quelle ricevute? A volte non viene particolarmente controllato, ma, diciamo così, a parte nell'ambito della programmazione comunitaria, dove esistono i controlli di primo e secondo livello, ma lasciamo perdere questo particolare. Quindi il tema sarà caratteristiche del soggetto, il codice ateico, e cose di questo tipo qua, e caratteristiche della rendicontazione. Faccio due esempi banali, ma così ci capiamo su cose concrete. Andiamo in Inghilterra. Siamo nella stessa circostanza. È una linea di finanziamento che era già attiva negli anni passati, viene rifinanziata la linea di finanziamento, si apre la possibilità per i musei di chiedere il finanziamento per abbattere le barriere architettoniche. La domanda sarà, con i soldi dell'anno scorso, quanti nuovi disabili sono entrati nel tuo museo? Punto. Se non ne sono entrati di più, non ti meriti nuovi soldi. È un modo, come capite, completamente diverso da ragionare, perché si fonda intanto su un concetto di fiducia interistituzionale, nel senso che esistono i controlli, esistono le verifiche, ma stiamo parlando sostanzialmente di un dato che, se venisse impostato così in Italia, immaginate la furbizia italiana si inventerebbe di tutto per dire che sono entrati tutti i disabili che esistono nella provincia, probabilmente. Però, al di là degli aspetti paradossali, capite che è un'impostazione dei sistemi di misurazione del tutto diversa. La scelta di una controparte privata, quindi, fondata sui risultati e non sui requisiti, cosa che non è assente nel Regno Unito, ma è un elemento, se vogliamo, non prevalente rispetto ai risultati che si producono, che è, peraltro, il sistema con cui si regolano non solo i rapporti tra pubblico e privato, ma, come nell'esempio che vi dicevo, i rapporti tra ente pubblico ed ente pubblico. Se voi andate sul sito del Victoria Albert Museum o sul sito della National Gallery, che sono finanziati dallo Stato, sostenuti dallo Stato, voi dovreste andare a cercare il funding agreement che è l'equivalente di quello di cui abbiamo parlato ieri, il contratto di servizio. Ora, se voi leggete un contratto di servizio italiano e lo paragonate ad un funding agreement inglese, vi viene purtroppo da piangere, ma non perché quello italiano non sia bello e sofisticato, perché quello italiano, cioè, vi dovete mettere accanto un avvocato che vi spiega che cosa c'è scritto, perché è scritto, è scritto esattamente in maniera formalmente ineccepibile. C'è scritto a qualunque fattispecie, il ritardo produce un pagamento di una sanzione di 100 euro dopo il quinto, tutto c'è scritto. Poi vi sfugge la sostanza delle cose, ma intanto c'è scritto. In quello, e quindi tipicamente se prendete un contratto, non voglio fare i nomi, ma se prendete un contratto di servizio di un ente pubblico a favore di una sua, sua controllata, con 20-25 pagine, se siete fortunati, riuscite a capire la pluralità dei requisiti posti e delle cose che si misurano. I funding agreement dei due musei che vi ho citato, che spero conosciate, sono stupendi, sono di due pagine. Una, mi pare, quella del Vittor Albreghe Museum. Dieci indicatori, sulla base dei quali io voglio capire. Sta entrando più gente, sta entrando più gente del posto, la qualità registrata attraverso un sistema che tu ti devi inventare, ma che io ti devo approvare rispetto alla qualità del ristorante e dei servizi complessivamente resi al pubblico. La soddisfazione del pubblico deve essere crescente, è fatta da valutatori indipendenti, è tutta una serie di 10-15 punti. Quelli sono il funding agreement. Ma voi ve lo immaginate una cosa del genere in Italia, in cui cioè un ente pubblico si preoccupa della qualità del cibo all'interno di un museo? Noi, il punto fondamentale è che devi essere fortunato che il concessionario decida di fare appunto un ristorante, una ristorazione di qualità, ma se volesse non farla avrebbe la capacità di poter avere una correttezza formale delle carte e continuare a produrre cose schifose all'interno del ristorante. Ma per un semplice motivo, che voi ve lo immaginate il, diciamo, il responsabile del controllo, che anziché guardare le carte, che ovviamente è il lavoro più semplice del mondo, e soprattutto è quello formalmente ineccepibile, senza interpretazioni, no? Io se una carta mi manca, il funzionario dice, perfetto, manca una carta, come fai a dibattere di quel punto? È un tema formalmente perfetto per essere portato a motivazione di un'esclusione o in generale di una valutazione. Diverso il caso in cui tu, come fa il responsabile della qualità dei servizi della National Gallery che ho conosciuto, ogni giorno scende, vede come sono messi i tavoli, controlla i prezzi, vede la soddisfazione delle persone, assaggia, verifica, attraverso ad esempio sistemi di mystery shopping, cioè manda gente che non ha il cartellino del valutatore e dice vatti a mangiare queste robe qui e dimmi come sono, ve le immaginate? Se fosse impostata così in Italia, alla prima valutazione che produce una decurtazione del finanziamento, ci sarebbe la schiera di avvocati che dice no, ma quello che ha fatto il mystery shopping c'ha il fratello che lavora in un altro concessionario che ha avuto una gara contesa con quello lì dentro, quindi ha fatto una valutazione peraltro discutibile perché fumava fino a sei mesi fa, cioè in Italia sarebbe impossibile avere un sistema di valutazione reale. Quindi quando parliamo di sistema di misurazione, al di là delle questioni che adesso io vi dirò, tenete bene, tenete bene in mente il fatto che siamo in Italia e quindi chiaramente il 90% di quello che sarebbe una buona valutazione non si può tecnicamente fare, ok? Quindi questa è la premessa fondamentale di ottimismo che vi voglio trasferire, soprattutto perché da dieci anni di lavoro in questo campo e quindi ho capito che non si riesce a fare. Detto tutto ciò, proviamo a capire come si fa la misurazione e vi troverete sempre di fronte ad un dilemma, oltre a quelli che vi ho già detto, cioè dell'obiettivo conoscitivo. Misurare per cosa? Per dare un incentivo, per programmare, misurare per capire, insomma tutte le cose ci siamo dette. Esistono vari modi con cui si può scomporre un rapporto pubblico privato. Il primo e più fondamentale è ovviamente quello di capire quali sono le funzioni che rimangono in capo all'ente pubblico e quelle che vengono in qualche modo delegate, attraverso uno strumento di concessione o perché vengono esternalizzate ad una fondazione di partecipazione che si dovrà occupare appunto dell'amministrazione o si dovrà occupare della didattica o chissà di quali altre cose. Ed è per questo che tipicamente noi facciamo, noi consulenti, ma in generale la buona amministrazione dovrebbero fare ricorso a dei modelli, cioè a dei, diciamo così, delle schematizzazioni funzionali o di vario tipo che ci permettono di scomporre un problema molto grosso in una serie di problemi più piccoli e più facili da gestire. Quello che vi ho riportato qua, ma solo come spunto, diciamo, intellettuale, è la catena del valore, che per chi ha fatto economia è una cosa abbastanza ovvia ed è un modo di rappresentare, non tanto nuovo perché parliamo dei primi anni Ottanta, ma è un modo di rappresentare, diciamo così, un processo economico scomposto in funzioni primarie e in funzioni di supporto. A destra, dove finisce, diciamo, quella specie di frecciona, abbiamo il cliente o l'utente e ricostruire, si chiama catena del valore perché è un modo di guardare, per il nostro lavoro, ad un progetto di gestione, ad esempio, e valorizzazione, non dalla prospettiva della titolarità amministrativa. Se avessimo dovuto fare la valorizzazione, se l'aveste chiesta, se le chiedeste ad un funzionario comunale di un bene vincolato dallo Stato, vi direbbe quello che fa lui, non quello che fa la sovrintendenza e ovviamente viceversa. Chi fa invece un'analisi di questo tipo, indipendentemente dalla titolarità amministrativa, si domanda, tutto quello che alla fine della fiera influisce sulla percezione del nostro utente, come può essere rappresentato? Ok? È importante che per voi questo sia un esercizio intellettuale perché di fatto poi per un consulente è una cosa ovvia, cioè noi magari facciamo bella figura su cose veramente ovvie, ma perché c'è un'abitudine appunto dovuta dalla struttura amministrativa italiana per cui ognuno pensa soltanto alle cose di cui è competente. Sto lavorando alla costruzione del primo sistema di accreditamento dei musei in Sicilia, che è una regione a statuto speciale dove di fatto non ci sono beni dello Stato, a parte alcuni archivi. E la regione dispone invece di tanti musei suoi proprio, i propri servizi, cioè unità periferiche. Però in Sicilia esistono anche altri musei, degli enti ecclesiastici, dei comuni, delle associazioni, dei privati, insomma esistono. Quando abbiamo cominciato a lavorare al sistema di accreditamento spiegando che in tutte le regioni i sistemi di accreditamento servono a valutare tutti i musei, indipendentemente dalla proprietà. Io ho visto il panico negli occhi perché praticamente per i funzionari con cui abbiamo fatto il lavoro, i funzionari della regione, cioè che esistessero dei musei più o meno, l'avevano letto sui giornali, ma che addirittura bisognasse fare un lavoro in cui quelli dei comuni, quelli delle parrocchie, quelli delle diocesi stanno insieme a quelli e sono valutati con gli stessi criteri di quelli della regione era una cosa che ha destabilizzato in molte, diciamo così. Uno è andato pure in pensione, non so se è andato in prepensionamento perché l'abbiamo sconvolto, però al di là delle battute l'Italia è fatta così. Cioè non troverete mai un'articolazione, scusate, non troverete mai all'interno della pubblica amministrazione, se non veramente in rarissimi casi, qualcuno che si assuma la responsabilità complessiva di qualcosa, senza che vi precisi però sa, questa cosa qua la fa la sovrintendenza, però sa le pulizie, io non me ne occupo, mi spiace che sporco, io sono il direttore, ma purtroppo non pago io le pulizie perché me le pago una cooperativa pagata dalla regione che ha incorporato una società fallita, che è, ecco, capito, purtroppo questo, il sistema purtroppo è fatto così. Perché, diciamo così, anche in questo caso il funzionario è chiamato dall'assetto normativo italiano a occuparsi esclusivamente di quello per cui ha competenza amministrativa, di tutto il resto è fatalità. Ok, accade ma senza che nessuno ne abbia una chiara visione. Quindi nel modellino che io vi riportavo, che si chiama catena del valore perché ha l'ambizione di raccontare come viene creato, attraverso quali funzioni e servizi viene creato il valore per l'utente, questa catena del valore è stata sviluppata da quello che le catene del valore le ha inventate, ci ho fatto i miliardi, che è Porter, il quale ne ha sviluppata una per i musei, che vi ho riportato, adesso non vi entusiasmate troppo, non vi aspettate di trovare grandi cose, però insomma gli americani a volte si entusiasmano così. E quindi ho riportato una serie di piccole cose. Ora, prima di entrare nell'ultima fase, vi voglio semplicemente citare, perché non abbiamo il tempo ovviamente, forse è la vostra ambizione, del principale però dato di misurazione che serve, serve sempre, in tutte le forme di cui abbiamo parlato. Quello che trovate prima ovviamente serve a capire come è sempre opportuno articolare le varie funzioni che possono comporre un'operazione di partenariato pubblico privato. È soltanto uno schema stupidotto, però che ci ricorda che dobbiamo sempre provare a capire all'interno di ogni servizio quali sono le sue componenti e su quello capire quali sono gli elementi qualitativi e quantitativi. Se io dico che la valorizzazione, allora scelgo che tipo di valorizzazione voglio fare, se voglio fare una valorizzazione socioculturale, come nell'esempio che vi dicevo prima, e quindi per chi di voi parteciperà al bando della fondazione con il sud, visto che sarò io il valutatore, il tema sarà che noi vogliamo vedere che ci sia un progetto chiaro in termini di finalità socioculturale che vuole rispondere, ma soprattutto deve essere coerente l'articolazione di attività e servizi. Sembra una banalità, ma il 90% dei progetti che si bocciano, si bocciano perché uno scrive delle finalità meravigliose che magari ho trovato pure sul libro, ho detto poi mi mette sempre un'analisi di contesto che io non ne posso vedere più, la SWOT che è veramente una delle cose che mi fa più vomitare, perdonatemi, quando le vedo sui progetti, quindi poca tecnicalità di quella manualistica, non servono cose sofisticate, né tantomeno serve incasellare le cose in maniera appariscente, serve un processo di decisione e di ragionamento lineare. Cioè, se io voglio lavorare con gli anziani, perché ho capito che quello è il punto, se io voglio trasformare un'ala di un museo in un luogo che diventa un centro di creatività per i giovani, prima di tutto devo aver capito qual è stato il bisogno a cui rispondo, perché noi lo diamo per scontato, ma a volte il bisogno sta nella testa di chi ci ha già la proposta, dice no, aspetta e mi invento un bisogno. No, o il bisogno esiste, io, diciamo, nell'ambito del Master del Sole 24 Ore dove insegno, seguo un modulo di start-up, che è già solo il nome, però in sintesi l'obiettivo è cercare di stimolare i ragazzi che hanno delle idee a seguire un processo razionale di costruzione dell'idea fino alla presentazione a degli investitori, ok? Finalmente quest'anno siamo riusciti a far capire a questi ragazzi che devono prima di tutto fare una diagnosi dei problemi a cui intendono rispondere. Qualunque idea imprenditoriale, anche di imprenditoria sociale, deve avere chiaro il punto in cui è a terra, a quale bisogno risponde. Per farvi un esempio, un gruppo sta lavorando ad una idea che insiste sui fabbisogni delle mamme nei luoghi di cultura, che hanno dei fabbisogni molto specifici, che loro hanno diagnosticato, hanno approfondito, sia sotto il profilo dei trend nazionali e quindi sui consumi e le modalità di consumo culturale delle mamme, sia in termini più specifici su Milano e in particolare su un certo tipo di patrimonio. Quello è un lavoro intelligente. Ora, al di là di come poi sarà sviluppata l'idea, che non è sempre facile poi che risponda alle caratteristiche di consumo anche, di acquisto di quel target, però il bisogno mi sembrava e mi sembra molto chiaro, ok? Molto ben qualificato, perché soprattutto in periodi come questo è molto facile inventarsi gli hub della creatività, il hub, tutte queste cose simpaticissime, fantastiche, che moriranno fra due anni, se va bene. Quindi è molto facile, purtroppo me ne rendo conto, cadere nelle mode, però siccome questo è un settore che invece ha bisogno, che è quell'entusiasmo che è sanissimo, che sta dietro tutte queste cose belle e di moda, quell'entusiasmo sano deve essere veicolato per queste cose che servono. Cerchiamo di capire quali sono i bisogni a cui rispondere, perché di bisogno ce n'è un'infinità a cui rispondere, quindi è inutile inventarsi una cosa che non ha un interlocutore, perché interlocutori potenzialmente interessati e anche interlocutori potenzialmente disposti a pagare, ce ne sono tanti, tantissimi, ok? Quindi le idee possono essere più incredibili, questo è un gruppo che sta lavorando su una specie di, come si chiama, bla bla car, quello che ti sposto, bla bla car con un modulo però attaccato alla parte di cultura, quindi eventi, concerti, adesso ho pensato il vitroppo, insomma questi ragazzi stanno facendo una gran fatica, però comunque ci sono dei segmenti a volte piccoli, a volte più ampli, a volte disposti a pagare tanto, a volte disposti a pagare meno, ma con costanza e continuità. Quindi il punto è, vanno benissimo tutte le simpatiche idee, però il punto è cerchiamo di capire quali sono i bisogni, quindi anche nel caso del bando fondazione con il Sud, atteso che avremo una lista predefinita di beni, quindi non è che uno parla in astratto, quindi prima di tutto dico, quel bene lì si è fatto in un certo modo e c'ha delle rampe così, farlo per i disabili sinceramente adesso, senza avere i soldi per abbattere le barriere architettoniche per rimanere nell'esempio di prima, mi sembrerebbe ridicolo. Facendo una cosa coerente con il posto, ma soprattutto capace di rispondere ai bisogni comuni, che uno deve avere chiari, non deve fare un'analisi sofisticata e non deve fare una SWOT, deve capire concretamente che cosa c'è lì, cosa si muove, quali possono essere i bisogni a cui rispondere, bisogni attuali o bisogni che stanno per nascere. Questo è il ragionamento che va fatto, quindi al di là dei modellini provare a ragionare in questi termini. Tutto ovviamente si regge su un'idea di sostenibilità, non solo nel bando della fondazione con il SWOT, ma in generale una delle cose più complicate per chi di voi voglia provare a portare avanti un'idea imprenditoriale, ma anche per chi di voi si troverà ad aiutare un ente pubblico o un soggetto privato nel portare avanti un'idea, la parte più complicata è la sostenibilità, che non è soltanto la ricerca di soldi, la sostenibilità è la individuazione di una formula di funzionamento. La formula di funzionamento è fatta di tre cose, il mercato, e se io non ho capito prima i bisogni non troverò mai il mercato di riferimento, perché vagherò alla ricerca di qualcuno che paga per un servizio che io ho costruito solo perché ce l'avevo in testa e mi è sembrato il servizio più bello del mondo, non funziona così, anche nell'imprenditoria sociale, il mercato. Il secondo tema è il prodotto, che deve essere perfettamente coerente con quel mercato, prodotto o servizio evidentemente. La costruzione è un prodotto o servizio, non può essere anche in questo caso il frutto di una bella intuizione, deve avere capacità di essere coerente con i fabbisogni del mercato, che è il punto di partenza di qualunque idea, non che uno non possa avere un'intuizione su un prodotto, attenzione. Io sono convinto che le buone intuizioni, se vengono da una persona che su quel contesto ha letto e incuriosito, sono mediamente buone, però hanno bisogno di uno sforzo, che non è, badate bene, non comprate libri sulle start-up, non spendete soldi su cose di questo tipo qua, veramente non servono, serve semplicemente essere razionali, razionali e studiare. Prodotto e mercato devono essere perfettamente coerenti tra di loro e questa coerenza determina il successo di quello che avete in mente. Ma c'è un terzo elemento che non è banale, che è la struttura organizzativa. Cioè questi tre punti devono essere tra di loro perfettamente allineati. Questo fa la formula di funzionamento. Se avete una grande struttura fantastica con grandi competenze, ma non riuscite a trovare il mercato di riferimento, frustrazione. Ok? Se avete una grande intuizione di prodotto, ma non riuscite a trovare una buona struttura organizzativa, vi prenderanno l'idea, verosimilmente. Ok? Se non avete mercato, quello è il guaio peggiore. Se non avete mercato, è il guaio peggiore. Perché capire qual è il mercato a cui vi rivolgete è il punto fondamentale per qualunque tipo, qualunque tipo di iniziativa. Che sia imprenditoriale profit, che sia non profit, che sia volontaristica. Dovete capire a che servite. Questo è il punto fondamentale. Vai. Perché se io individuo il mercato, il prodotto, l'organizzazione, ok? Però se già c'è qualcun altro che fa la stessa cosa, già soddisfa il mercato, quella parte di mercato a cui mi voglio rivolgere, che comunque potenzialmente potrei soddisfare. Però se qualcun altro già lo fa, quindi dovrei individuare anche chi... Infatti in questo modulo che insegno, e che secondo me, se proprio un libro lo volete comprare, è uno che costa poco se ancora lo pubblicano, è Come costruire un business plan di Cinzia Parolini, edito da Paravia. È un libricino piccolino, con copertina rosa shocking, come era vestita lei quando veniva a farci lezioni all'università. Molto brava. è dove trovate esattamente i tre punti che vi ho citato. In questo triangolo della formula che chiama lei imprenditoriale, Cinzia Parolini si chiama, in questo triangolo tutti, diciamo, i lati di questo triangolo si aprono per dire quello che va studiato ovviamente fra i tre nodi. E la concorrenza è ovviamente uno dei punti. Sono 20-25 punti, quindi chiaramente tra la concorrenza ci sono mille altre cose che vanno studiate, la disponibilità a pagare, è ovvio che quelli sono tutti gli elementi da studiare, ma i punti che devono essere chiari dopo aver fatto tutte le analisi che sono necessarie, sono quei tre che vi ho detto. E io, diciamo che in aula non ero molto convinto del modello imprenditoriale che ci veniva raccontato, col tempo ho capito che quei tre punti sono proprio fondamentali. Cioè sono proprio fondamentali. Se uno non ha chiaro il mercato gira a vuoto per anni, veramente per anni. Io ho visto ragazzi purtroppo anche bravi, anche che ci hanno speso soldi, girare a vuoto. E girare a vuoto perché non c'era un bisogno di partenza. Cioè l'idea era fantastica, ma nella loro testa era stupenda. Ci hanno trovato pure i soldi, hanno messo su una struttura organizzativa perfetta per quel prodotto, ma non c'era un mercato. E quindi, per carità, se uno ha i soldi da spendere perché lo vuole fare come divertimento, è perfetto. Ma se ha l'ambizione di rivolgersi a qualcuno che è diverso da quelli che condividono con lui l'idea, deve capire chi sono, che faccia hanno, quando comprano. Deve capire un sacco di cose che non sono analisi necessariamente sofisticate. Cioè nel senso quando io fondavo le associazioni culturali, quando stavo giù da me in Sicilia, per capire che cose che mi servivano, andavo io, capivo, chiedevo, facevo cose, domande stupide, senza grosse tecniche. E quindi insomma quello è quello che serve più o meno, insomma non è che servono grandi cose. Adesso non so bene come costruiremo il format della domanda per il Fondazione con il Sud. Però qualunque sia il format, diciamo così, io e le persone che con me faranno questa roba qua, valuteranno la bontà dell'idea. Quindi è ovvio che non è che deve essere un'idea semplicemente tecnicamente costruita bene, sennò tutti i consulenti farebbero ovviamente gli imprenditori. Serve una bella idea e quella deve essere una bella idea coerente con un bisogno che magari scovate solo voi, no? Che non è una di quelle cose trite, ritrite, per cui ogni volta ha creatività, sempre solite cose, no? Perché sono vent'anni che facciamo incubatori creativi. Io mi ricordo che ero al liceo quando facevamo, io ero rappresentante di istituto e facevamo gli incubatori creativi. Era un'idea vecchia secondo me già allora per come era impostata. Poi ce ne sono di cose funzionanti, ma alla fine se l'incubatore è mettere quattro stanze con l'affitto calmierato, sinceramente tutta sta grande idea, posso capire che abbia senso. Ci sono contesti in cui ha senso quella roba là, perché tu hai fatto un'indagine, hai visto che c'è un bacino universitario, un bacino di scuole, di formazione, che può avere senso se poi lo costruisci anche in maniera moderna, no? Però farsi entusiasmare perché hai messo quattro persone insieme in un affitto, sinceramente io tutta sta grande cosa, vanno a fare i convegni pure su ste cose. Mi sembra, poi non lo so, io sono un po' alla matriciana da sto punto di vista, non mi faccio molto entusiasmare dalle etichette, però magari sono io fatto male da sto punto di vista. Allora, vi dicevo, prima dell'ultimo blocco in cui costruiamo insieme, diciamo, come è fatta la concessione, ci facciamo? Sì, perfetto. Volevo dirvi che l'ultima, l'ultimissima prova del nove, diciamo così, con cui si fa la valutazione di sostenibilità in generale e che richiede qualche attenzione in più e qualche accortezza interpretativa maggiore nel caso specifico è quella dell'analisi finanziaria. Non so chi di voi l'ha fatta all'università. Nessuno? Il cash flow? Ok. Tu che scusa che l'università hai fatto o fai? Economia aziendale. Ah ok, quindi perfetto. sai di cosa stiamo parlando? Allora... Ah ok, non l'avete mai fatto? Ok, quindi insomma, qualcuno di voi ha sentito parlare di una cosa molto semplice, anche se la formula sembra molto complicata. Allora, la domanda, ve la accenno solo perché capite non è adesso il caso di entrare in questo aspetto, però una volta capiti gli elementi caratteristici qualitativi dei servizi, un elemento fondamentale che deve essere valutato, non sarà previsto ovviamente nel bando della fondazione con il sud o una cosa del genere, però comunque su progetti più articolati, nei project financing è fondamentale, per capirci, anche nelle concessioni, bisognerà sempre produrre un'analisi finanziaria. Ora, senza annoiarvi su cose che magari vi interessano meno, però anche col buon senso, se io dovessi dirvi, proviamoci, secondo voi, quali di queste due fattispecie portano alla crisi di una impresa di qualunque tipo? L'essere in perdita o non avere soldi in cassa? In perdita intendo dire sul bilancio, un bilancio che chiude in perdita. Oppure, le due cose non necessariamente sono, come dire, in antitesi, però ipotizziamo che lo siano. Confrontate due realtà che vi vengono in mente, ma anche due associazioni. Una chiude il bilancio in perdita e l'altra il bilancio ce l'ha inutile. Ok? Però non c'hai soldi in cassa. Tra le due, in quale delle due barche vorreste stare voi? Dovendo scegliere. Aspetta, la seconda quale era? Non l'ho già scordato. Cioè, tra il rinunciamento dell'utile e la zero in cassa. Quindi tu dici, io preferirei stare in un'associazione che chiude inutile anche se non c'hai soldi in cassa. Lei invece dice che preferisce stare in quella in perdita con cassa. Tu che dici? Idem. Quindi sospetto che se quella di laureata in economia aziendale dice idem comincia a... vabbè, esattamente quella. Perché, semplificando in maniera molto grossolana, insomma, speriamo non mi senta il mio professore di finanza, però, o nel meglio di contabilità, perché a parità di mille altre condizioni, se io chiudo in perdita, ma c'ho i soldi per pagare i miei fornitori, ho continuità aziendale. Ok? Se io chiudo inutile, ma non c'ho una lira per pagare e rompo il processo di continuità aziendale, non vado più avanti, mi fermo lì. Ed infatti è più frequente, diciamo così, che si verifichi una situazione come quella che vi ho descritto, in cui cioè la parte contabile non segue la parte finanziaria, ma mentre la parte contabile la puoi sistemare, se mancano i soldi in cassa, non puoi andare avanti. Ok? Per questo è in balza, soprattutto negli ultimi anni, in Italia anche dove invece c'è una tradizione contabile, come sapete, l'abbiamo inventata noi, la partita doppia, è in balza anche in Italia un'attenzione più forte, adesso forse preponderante, per le analisi finanziarie, cioè le analisi che guardano ai flussi di cassa, che è come guardare al conto corrente, ok? Per capirci. Ovviamente l'analisi si può fare in maniera molto sofisticata, però in sintesi, senza voler fare troppo i carini, come dice un amico mio, il punto è quello, cioè capire i soldi in cassa. Le analisi finanziarie quindi servono per arrivare alla fine di una serie di calcoli, arrivare a comprendere non soltanto i soldi che in cassa ciò, perché quello faccio l'estratto conto e lo vedo, ma soprattutto i soldi che in cassa avrò. E quindi, come capite, diciamo così, l'elemento che determina la bontà di un investimento è la capacità di generare proprio quei flussi di cassa. E quindi è ormai elemento consolidato quello di verificare proprio... Scusate, ma devo stare a dire... La mattina quando sono uscito dalla doccia, l'ha andata via la luce e non c'era il phon, quindi... scusate. Adesso in particolare che in streaming di solito spacca come informazione. Quindi, scusate, ultimo punto riguarda il fatto che l'analisi di un investimento si fa in termini puramente finanziari sommando i flussi di cassa futuri che quell'investimento vi produrrà. La struttura dell'investimento tipicamente come è fatta? Un primo flusso di cassa negativo, perché c'è un investimento da fare, devo attrezzare lo spazio, fare cose così, e poi flussi di cassa, speriamo crescenti, che devo considerare in maniera sintetica. Cioè, se io vado da un investitore e gli dico, guarda che mi sono inventato l'app per risolvere questo problema, e gli dico, guarda che devo prima fare un anno in cui faccio l'investimento e mi servono 50.000 euro. Dopodiché comincerò ad avere un flusso di cassa finale alla fine di tutti i costi che devo sostenere, di 5.000 euro il primo anno, 15 il secondo, 20 il terzo, 25 il quarto e così via. Quello dice, sì, sì, ho capito, ma in sintesi, il tuo VAN com'è? Il valore attuale netto, o in inglese NPV, net present value, com'è fatto? Che cosa esprime questa misura? Questa misura esprime in maniera sintetica e confrontabile con altri investimenti proprio il valore di quell'investimento. E cosa fa, come vedete dalla formula? È semplicemente una somma di tutti i flussi di cassa del mio investimento. Dice, guarda, avrò un flusso negativo di meno 50.000, dopodiché nei prossimi 5 anni rientro dell'investimento e al quinto anno mi sarò ripagato tutto l'investimento. Ok? Questo è il VAN. A cui si aggiunge però un elemento che complica la formula e che però ha un fondamento di buonsenso. E cioè, faccio un'altra domandina, secondo voi è meglio avere 100 euro oggi o 100 euro fra 5 anni? Secondo te? fra 5 anni? Scusate, mi doffi il naso. Fra 5 anni? Fra 5 anni, chi dice di più, no, di più, di chi dice diversamente? fra 5 anni, chi dice di più, di più, di meno. Fra 5 anni? Che dici tu? Arrate. Arrate? Arrate? No, no, 100 oggi o 100 fra 5 anni? 100 oggi, dice la laureata in economia aziendale, ed è la risposta esatta. Funziona? L'ho riacceso dopo. Perché? Perché fra 5 anni chissà dove siamo, e come dice il buon Keynes, nel medio-lungo termine saremo tutti morti. Qualcuno dice no, ma nel medio-lungo termine poi. Quindi il punto fondamentale dell'analisi finanziaria è che deve comprendere in questa analisi, e vediamo come lo fa, deve comprendere, diciamo così, il fattore tempo. Cioè deve riuscire ad includere la rischiosità che è connegata ai flussi futuri molto più che ai flussi più vicini. Se io devo fare una stima da qui a un anno, è verosimile che la sbaglierò magari, ma la sbaglio di meno che se ne faccio una da qui a 10 anni. Per fare questo si procede con un'operazione che chi fa controllo di gestione conosce molto bene, che è quella di, si dice, attualizzare. Attualizzare vuol dire rendere attuali dei flussi che sono futuri. Cioè io porto un flusso a 10 anni, positivo o negativo, lo porto al valore che ha oggi. E' un'operazione interessante, no? Che dico, quanto valgono 100 euro fra 5 anni? Verosimilmente valgono meno dei 100 euro che oggi, perché quei 100 euro sono esposti a un rischio, ma anche di inflazione, a un rischio che non si avverino veramente. Molto più alto che i 100 euro che io già ho. Quindi non posso confrontare due cose che hanno intrinsecamente una natura diversa da un punto di vista finanziario. Per fare questa roba qua, questa attualizzazione di un flusso futuro si fa attraverso un'operazione che si chiama sconto. Cioè decurto una parte di quella somma che mi dà la misura, diciamo così, di una probabilità che quella somma magari non si avveri o non si avveri per l'importo che ho stimato. Questa operazione, quindi, si fa attraverso un tasso di sconto, che mi racconta esattamente una sintesi, se vogliamo, di quei, tutti gli elementi che mi fanno dire che i 100 euro fra 5 anni avranno un valore minore oggi, ok? Ci sono vari modi per calcolare la R che sta al denominatore e che in quanto tale se sta al denominatore mi fa abbassare, diciamo, il valore ovviamente del flusso di cassa. In sintesi, quindi, il VAN, il valore attuale netto, è un indice, un indicatore sintetico, è un numero quello, mi dice 30.000 euro, 25.000 euro, 500.000 euro. Se è maggiore di zero, vuol dire che l'investimento si deve fare. Nel settore culturale non è sempre maggiore di zero. O è maggiore di zero a certe condizioni che vanno esplorate attentamente, un contributo pubblico, una scadenza particolare, la possibilità di anticipare i contributi e tutta una serie di questioni tecniche su cui non vi annoi. Però, se vogliamo concludere, diciamo così, un'analisi delle forme di partenariato pubblico-privato, dobbiamo tenere conto sia dell'effettiva pluralità di queste forme che vi ho un po' raccontato e che potete ovviamente approfondire, sia dei tipi di valorizzazione che vogliamo mettere in campo, da cui discendono poi gli oneri di gestione, sia della formula, se vogliamo, di funzionamento del triangolo delle tre cose di cui stiamo parlando, chi fa che cosa, e sia della struttura finanziaria, che ha dentro tutti i ragionamenti che sicuramente voi avete fatto e che fate quotidianamente, cioè come si fa a gestire bene qualcosa, ma alla fine deve avere un indicatore, cioè per chi di voi volesse intraprendere una gestione di qualcosa, o volesse aiutare un ente pubblico a fare una buona scelta di un partner privato che gestisca un palazzo, dopo tutte le considerazioni qualitative che vogliamo, la missione, il progetto culturale, il tipo di attività, la valorizzazione socio-culturale, tutte queste cose, alla fine della fiera voi dovete calcolare di che flussi di cassa stiamo parlando. Per un fatto anche legale, il funzionario pubblico, come vi dicevo ieri, deve sempre poter dimostrare di aver fatto la scelta migliore sotto il profilo, sì, della qualità culturale, ma anche sotto il profilo economico. Se si dimostra che un funzionario pubblico poteva chiedere più soldi ad un privato, pur garantendo al privato la possibilità di remunerarsi e non lo ha fatto, quello è danno erariale, cioè il funzionario ci deve mettere i soldini suoi, non so se è chiaro. Come arriviamo a questa roba qua? Lo vediamo dopo la pubblicità, facciamo una piccola pausa, perfetto, e arriviamo all'approfondimento, che è l'ultima parte di questo supplizio a cui vi siete sottoposti volontariamente.